In questo video ci occupiamo di capire quando un sistema lineare è crameriano. Ricordiamo innanzitutto che non vale la doppia implicazione, ovvero se un sistema è crameriano allora ammette un'unica soluzione. Ma esistono sistemi che ammettono un'unica soluzione pur non essendo crameriani e lo vedremo negli esercizi successivi. Ricordiamo anche che un sistema è crameriano quando sono soddisfatte due condizioni. La prima condizione è che la matrice associata al sistema sia quadrata. La seconda condizione è che il determinante di quella matrice sia diverso da zero. Quando valgono tutte e due allora possiamo concludere che il sistema è crameriano. Vediamo in questo video tre esempi, tre sistemi. Allora scriviamo la matrice associata al primo sistema. A uguale uno meno tre due seconda riga tre meno quattro sette. Osserviamo che la matrice A è una matrice rettangolare, quindi la matrice non è quadrata. Poiché la prima condizione non viene soddisfatta, non ha senso neanche ovviamente guardare la seconda, e possiamo concludere che il sistema non è crameriano. Vediamo adesso la matrice associata al secondo sistema. La matrice è quadrata, quindi la prima condizione è soddisfatta. Ha senso quindi chiedersi se il determinante sia diverso da zero. Osserviamo però che la seconda riga si può ricavare dalla prima moltiplicando per due. Quindi le due righe sono direttamente proporzionali. Questo significa, implica, che il determinante della matrice sarà uguale a zero, per cui il determinante non è diverso da zero. In questo caso soddisfatta una sola delle due condizioni e quindi il sistema non è crameriano. Vediamo se il terzo sistema soddisfatta entrambe le condizioni. Scriviamo la matrice associata. 3, 1, 4, meno 1. Calcoliamo il determinante. 3, 3 per meno 1, meno 4 per 1. Il determinante è uguale a meno 7, che è diverso da zero. Allora, abbiamo la matrice quadrata, c. il determinante è diverso da zero e quindi possiamo concludere che, poiché entrambe le condizioni sono soddisfatte, il sistema è crameriano e quindi soltanto questo sistema ammette un'unica soluzione.